Il mio saluto e il messaggio che porto a nome della Commissione europea, che rivolgo evidentemente ai giovani che hanno superato una selezione per partecipare a questa scuola estiva, auguro loro che la scuola estiva serva per imparare molto, sono sicuro che sarà sicuramente il caso, sono sicuro che anche loro hanno molto da raccontare, da insegnare, non è un caso che questo progetto si chiami l'Europa delle idee e il mio augurio più in generale per la carriera brillante che auguro a tutti è quello che possa essere ispirata ai valori che secondo me hanno caratterizzato l'azione politica di Renzi in beni, sia come amministratore locale che come eurodeputato e vicepresidente del Parlamento europeo e quindi questi valori sono l'europeismo, l'impegno europeo vero, il valore della mediazione, della conciliazione che ha caratterizzato sicuramente il suo impegno nel rapportare il Parlamento alle altre istituzioni europee, la cultura che è sempre stato uno dei suoi cavalli di battaglia e che ha portato in Europa la cultura del territorio, di Bologna in particolare e da ultimo, ma non meno importante, anzi l'onestà, l'onestà intellettuale e il profilo altissimo della sua opera che auguro a tutti di poter usare come esempio e come modello. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!